E' una splendida mattina nella Baia di San Francisco, vedete Alcatraz sullo sfondo e il sole del mattino rende più bello che mai il simbolo della città, il Golden Gate Bridge. Guardate che bello che è, così maestoso e imponente, il Golden Gate è uno dei ponti più antichi e penso sia il ponte più famoso al mondo, tra l'altro anche il più bello. E nel pomeriggio andremo di là, dove vedete quelle colline sulla sinistra del ponte, dove chiuderemo il live con delle foto magnifiche al tramonto con San Francisco che a quel punto si vedrà con il sole alle spalle, quindi non si vedrà più, non ci sarà più questo contro luce e faremo delle foto e dei video anche da lì, sarà la chiusura ideale di questo live fantastico e condivideremo con voi anche questo. Quindi seguiteci ragazzi fino a le foto dalla collina di Sao Salito a San Francisco. A dopo ragazzi!